La bandiera italiana sventola di nuovo nel cielo di Baikonur in Kazakistan. Tre anni dopo la missione futura dell'astronauta ESA e pilota dell'aeronautica militare Samantha Cristoforetti, l'Italia torna protagonista di una nuova missione sulla Stazione Spaziale Internazionale con Paolo Nispoli. L'astronauta italiano dell'ESA e ufficiale paracadutista della riserva dell'esercito, a 60 anni partirà per la base orbitante il 28 luglio 2017 a bordo della navetta Soyuz MS-05. Il lancio è previsto per le 17.41 ore italiana. A bordo con lui ci saranno il comandante russo Sergei Riazanski e l'americano della NASA Randy Bresnik. La nuova missione di Nespoli, la sua terza in totale, si chiama VITA, acronimo che sta per Vitality Innovation Technology Ability, ed è la terza missione di lunga durata per l'Agenzia Spaziale Italiana delle sei messe a disposizione dell'Italia dalla NASA. Prevede 13 esperimenti scientifici totalmente made in Italy, molti dei quali sulla fisiologia umana in microgravità. Esperimenti che si aggiungono ai circa 200 che normalmente vedono impegnati tutti gli astronauti e i cosmonauti a bordo dell'ASS. Le giornate che precedono il lancio a Baikonur sono frenetiche, dense di attività per i tre astronauti dell'Expedition 52-53, raggiunti in Kazakistan anche dalle mogli. Da una parte si ripassano le procedure e si controllano gli equipaggiamenti, prendendo confidenza anche con l'abitacolo reale della Soyuz. Dall'altro ci sono tutta una serie di tradizioni da rispettare, come appunto l'alzabandiera, piantare un alberello e il saluto alla casetta in cui dormì Yuri Gagarin prima del suo storico volo nello spazio.